Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato l'ok dal 28 giugno in tutte le regioni di zona bianca d'Italia decade l'obbligo di mascherina all'aperto. Soddisfatti i cittadini per questa ritrovata libertà. Sarà una liberazione, speriamo di sì. Allora all'aperto nessuno può dimostrare con sicurezza che sia necessario, che sia indispensabile. Prudenzialmente chi la vuol tenere la tiene. Vedendo i comportamenti di molti intorno a me io la terrei e la terrò. Anche all'aperto non si può portare la mascherina, è insopportabile veramente. Io credo che sia giusto anche nella regione Campania, anche se ho letto, se non sbaglio, sui social che De Lugo vorrebbe prorogarla. Io non credo che sia il caso, pure perché gli esperti hanno detto chiaramente una cosa. All'esterno c'è il 95% di possibilità di non essere contagiato. In Campania resta dunque l'incognita De Luca che più volte ha detto di voler mantenere l'obbligo delle mascherine all'aperto per tutta l'estate. Sulle polemiche ha precisato. Un dibattito demenziale non è che senza mascherine verranno i turisti in allegria. Verranno se una società irresponsabile non scapigliata. Mentre sul rallentamento dei vaccini che ha portato alla chiusura anche dell'Hub al Museo Madre, il governatore dà la colpa a una comunicazione squinternata da parte del governo. Intanto il via libera al coprifuoco crea allarme nei comitati cittadini a Napoli per la movida fuori controllo soprattutto nella zona dei Baretti. Mentre ad Avellino si festeggia con un conto alla rovescia.